Ciao, buongiorno, faccio questo contenuto per rasserenare, rassicurare tutti coloro che si interrogano ogni giorno ma è possibile che io faccia tutta questa difficoltà, ma è possibile che sia proprio di legno, io vedo tutti cantare eppure io faccio ancora una gran fatica, che non è una fatica fonatoria, perché questo se uno fa un percorso consapevole se fa un percorso tecnico che abbia un senso, la prima cosa che si toglie è la fatica ma questo non fare fatica richiede un grande lavoro addominale diaframmatico, richiede un grande lavoro, una grande costanza e ci sono dei tempi assolutamente personali grazie ai quali questa costanza prima o poi premia è questione di starci sopra poi è chiaro che se io ho un talento musicale, ho un orecchio musicale, ho uno strumento qui laringeo che è nato per cantare meglio, tra virgolette, senza sminuire gli altri, ma meglio di tanti altri è chiaro che io ho dei tempi molto più ristretti rispetto invece a chi non ha un orecchio musicale non ha un talento musicale, non ha un talento laringeo, risonanziale, respiratorio di un certo tipo è chiaro che quest'ultimo o questi ultimi farà e faranno molta più fatica a livello di tempo ci metteranno di più ma va assolutamente benissimo perché tu sei unico, la tua voce è unica quindi a poco serve questo paragone ci sono le persone che atleticamente sono più predisposte e loro magari a fare certi sport ci metteranno meno di quanto ci metterebbe magari una persona atleticamente meno predisposta come sottoscritto io ero l'ultimo che veniva scelto nelle squadre di calcetto quando facevamo le squadre da bambini di pallavolo l'ultimo era Tosoni perché? perché Tosoni stava tutto il giorno a fare il plin plin a esercitare i polpastreri delle sue mani e il suo estro musicale quindi se il ragazzino ci rimaneva male l'adulto, il maturo dovrebbe comprendere che ognuno di noi nasce con una prerogativa che ognuno di noi nasce con un talento e con una missione ed è quello che bisogna inseguire, ed è quello che bisogna in qualche modo chiedersi ma in base al mio talento che cosa sono chiamato a fare? poi ci sono dei sottotalenti, ho fatto altri contenuti su YouTube se vuoi andare a vederli in cui parlo di questo, i sottotalenti, i sotto dei sottotalenti magari ad un secondo livello o ad un terzo livello io ho il canto io ho lo strumento voce quale strumento preferenziale per sentire anche ciò che sono sentire come respiro, come potrei respirare, come dovrei respirare magari nello strumento voce ho la possibilità di scoprire tanto di più grazie al canto rispetto a quello che io penso sia il canto quindi una mera esecuzione, una mera interpretazione del io ti faccio sentire quello che provo e quello che sento sì, ok, ma tu chi sei? questa è la risposta a cui si arriva che è una non risposta alla fine, però non vorrei entrare nella filosofia a cui si arriva o non si arriva facendo un percorso di voce quindi il percorso di voce, il percorso di canto apri infinite porte, è bellissimo, ma bisogna rispettare i propri tempi mettiti comodo, ci può volere un mese, ci possono volere tre mesi noi generalmente nel nostro percorso stiamo vicini alla persona che fa il percorso a voce senza almeno per un anno perché ci sono proprio dei tempi di elaborazione l'altro giorno c'era una persona, una dottoressa in pensione che diceva, voi dite sempre che non si fa fatica voi di voce senza, canta senza fatica, tutto bello ma bisogna fare una, ha detto uno sproloquio di fatica, una mole esagerata, diciamolo in italiano una mole esagerata, di fatica qui e io dicevo, mia cara, non è fatica qui, è lavoro qua bisogna fare un grande, l'ho detto prima un grande lavoro addominali diaframmatico non tanto in intensità ma in quanto in presenza io devo sentire sempre molto forte questa presenza depanza nella mia affonazione perché come diceva questa dottoressa l'altro giorno se vogliamo togliere fatica qui qualcuno deve lavorare qualcuno o qualcosa deve lavorare in noi perché la voce possa uscire senza fatica e questa dottoressa mi diceva io vado in palestra ogni giorno a fare un'ora di palestra e non faccio questo lavoro con gli addominali ecco perché e qui adesso voglio aggiungere una cosa in merito alla palestra perché in tanti voi mi chiedete questa cosa adesso spero di ricordarmela che poi mi perdo tra le mille porte del canto questa persona diceva non faccio questa fatica ma perché in realtà non è che non fa quella fatica è che quando va in palestra a fare i suoi addominali magari non va a stimolare le fasce muscolari che sono proprio quelle del canto però è anche altresì vero che tenendosi atleticamente in un certo modo quindi andando in palestra facendo un po' di corsa facendo un po' di attività fisica sto vedendo degli allievi che hanno dei risultati fisicamente molto interessanti facendo per esempio gli esercizi sulla sedia quindi non è che serva fare il calisthenics o fare le cose acrobatiche magari sì, serve pure quello tutto ciò che ti aiuta a stare bene anche a livello fisico aiuta il tuo canto aiuta la tua vocalità perché come dico sempre la voce è in primis corpo poi è anche vero che è emozione è sicuramente vibrazione, energia e arriva da una sorgente animico-spirituale che vibra a priori ancora prima della voce e che la voce diventa strumento per manifestare quella vibrazione di fondo questo è un discorso molto ampio già trattato e che tratteremo ancora però ecco tutto ciò che fa star bene te l'alimentazione consapevole l'idratazione il riposo tutto ciò che aiuta te aiuta la tua voce e il tuo canto se fai fatica in questa zona qua vuol dire che sei fuori binario questo non vuol dire che tu non debba fare un certo tipo di lavoro addominale diaframmatico cara quindi mi raccomando lavorateci è importante che vi prendiate cura di voi perché voi siete la vostra voce e rispettate i vostri tempi adesso sta iniziando un nuovo anno accademico da settembre-ottobre si attivano tutti i coach tutte le accademie anche noi stiamo ricevendo le iscrizioni del nuovo anno quindi ci sta è bellissimo ma ricordatevi che i vostri tempi sono i vostri tempi nessuno ha il diritto di dirvi no perché tu devi migliorare così e nemmeno voi stessi a voi stessi vi dovete dire sono negato perché io cioè guarda l'altro come fa io in questo mese avrei dovuto raccogliere questo risultato non è detto che tu lo debba raccogliere quel mese perché se stai nella pratica con continuità ed è questo che ti posso assicurare con i miei oltre 25 anni di didattica siamo ormai quasi i 30 cioè quello che ti posso assicurare è che se tu ci stai sopra ogni giorno è solo questione di tempo e i tempi generalmente si riducono si accelerano rispetto a colui che invece fa un vocalizzo ogni tanto o fa una lezione saltuaria sperando che sia il suo vocal coach il suo maestro ad aiutarlo a migliorare no solo voi potete migliorare solo voi siete i maestri della vostra voce il vocal coach ha il ruolo di darvi qualche piccola indicazione per andare a svegliare quel maestro che è dentro di voi quindi è la pratica importantissimo senza che nessuno debba aspettarsi il risultato dietro l'angolo perché il risultato è il piacere della pratica è lo stare nella pratica un'altra cosa molto bella che i nostri allievi ci condividono quanto è bello stare nei vocalizzi questa è la chiave stare nella bellezza stare nel ah che bene che mi fa stare questo vocalizzo che bene che sto in questo vocalizzo ecco che i risultati arrivano in tempi inaspettatamente brevi senza però aspettarli ecco perché inaspettatamente brevi è importante questo mood è importante questa modalità stai nella tua pratica stai nell'accogliere nell'accettare ciò che tu sei ora oggi va benissimo senza doverti fustigare o frustrare se i tuoi risultati non sono quelli che tu ti aspettavi che fossero perché è proprio nell'accogliere nell'accettare ciò che tu sei che proprio quei risultati arrivano in men che non si dica buona pratica buon lavoro ciao ciao